La giunta comunale ha approvato per nocere inferiore il DASP urbano. Il provvedimento dovrà poi essere portato in consiglio comunale. Prevede l'allontanamento dal territorio comunale ed una sanzione tra 100 e 300 euro. Nel caso di una violazione del divieto, nelle successive 48 ore si verrà multati per altri 200 euro e qualora dalla condotta tenuta possono derivare pericoli per la sicurezza, verrà esposta denuncia al questore. Il DASP urbano si applica in questi casi, per il lancio di oggetti in modo pericoloso, per atti offensivi della pubblica decenza, per coloro che bivaccano ed occupano panchine o spazi pubblici con comportamenti illesivi della decenza, del decoro, della quieto e dell'igiene, per chi sale sui monumenti, fontane, cancellate, recinzioni di edifici o alberi provocando pericoli per le strutture o per l'incolumità pubblica. Il DASP si applicherà anche per chi esercita l'accattonaggio in modo molesto con l'impiego di minori o all'intralcio alla circolazione pedonale e veicolare a coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica in assenza dei requisiti. Si presterà particolare attenzione alle aree urbane in cui insistono scuole, luoghi di culto, cura e cultura. In particolare l'applicazione del DASP urbano potrà avvenire presso la villa comunale, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi minori, la sala polifunzionale, l'intera area di Piazza del Corso, Piazza Diaz, Piazza Petrosini, Piazza Nassiria, Largo Sant'Antonio, Biblioteca Comunale, Cimitero, centri di quartiere, area mercatale e Teatro Diana. Attenzionate anche le aree comunali addibiti a verde pubblico e l'ospedale Umberto I. La decisione sul DASPO arriva all'indomani degli eventi criminali che si sono verificati in città nell'ultimo periodo. È stato proprio il prefetto di Salerno durante la riunione per il comitato e la sicurezza pubblica a richiamare l'opportunità di individuare all'interno dei regolamenti comunali di Polizia Urbana le aree pubbliche in cui è possibile applicare la misura del DASPO urbano.